Figura anche la locale squadra di calcio del Savoia tra i soggetti vittime di vari tentativi di estorsione, quattro le persone arrestate a Torre Annunziata. Ad eseguire il provvedimento cautelare messo dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura Partenopea di Direzione Distrettuale Antimafia sono stati i carabinieri del gruppo Prontino. I quattro soggetti destinatari dell'ordinanza sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere di tipo mafioso e di estorsione, aggravati sia dalle modalità mafiose sia dall'agevolazione a clan Gionta, operante tra Torre Annunziata e le zone limitrofe. In particolare gli episodi estorsivi per i quali si procede sarebbero stati commessi rispettivamente ai danni di un elettricista in forma tentata della società sportiva Savoia Calcio e dell'amministratore di una rivendita di pesce. Grazie a tutti!